ecco finito il lavoro almeno qua in questa parte qua per la volpe guardate qui messo la rete con questo piccolo spazio che uno può dare lo stesso a mangiare gli animali però la volpe se va su qua non può fare niente almeno si spera qui è inclinato e più c'è l'alta tensione guardate come è scritto qua il cartello ci scusiamo il fastidio che può dare il recinto ma è utile per evitare che le volpi lo possano saltare perciò è stato alzato elettrificato nella parte superiore tutto elettrificato collegato all'apparecchio che dà i 7000 volt eccolo qua in modo che la volpe se fa su prendere una bella scossa e ci ripensa un'altra volta e qui va avanti tutto il recinto alto inclinato guardate però c'è una volpe e un'altra lì a sinistra quindi sono in due adesso è arrivato il rinforzo questa arriva sì per fortuna vanno in acqua le anatre che l'acqua è la salvezza questo va in cerca del comiglio anche ecco sta studiando come fare tutte e due sono qua le volpi non sono ancora soddisfatte per adesso oggi hanno preso solo una galina il gallo nero che di prima perciò è stato alzato elettrificato nella parte superiore tutto elettrificato in modo che la volpe se va su prendere una bella scossa ecco è vero speriamo che che le occhi siano al sicuro sono rimaste solo l'oro e le due anatre bianche è vero Grazie a tutti. 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 a tutti.